buongiorno ragazzi benvenuti in un altro giorno di ordinaria follia questo lavoro quando mai mi è venuto nelle corna di farlo ma lo porto a casa giuro che lo porto a casa allora la notte ha portato consiglio tantissimo consiglio però seguitemi perché sarà un ragionamento lungo complesso e molto molto confusionario ma prima una doverosa premessa ieri ho messo ad asciugare la sabbia per il super power del fraccaro che va a fogli viola la sabbia è completamente asciutta nota sulla sabbia la sabbia non l'ho presa per testa per usare questa sabbia ma semplicemente per testarne la grana non il colore che non va assolutamente bene se dovessi cambiare sabbia troverò una sabbia simile come grana ma di altro colore e sempre sulla sabbia grazie all'utente che mi ha segnalato il post della sabbia di ieri sera per nudità e grazie a islam che non fa un controllo mi sta un po stancando questa cosa allora il ragionamento che ho fatto poi vi faccio vedere il pezzo che ho stampato ieri facciamo un ragionamento ma provate a seguire il mio discorso confusionario allora noi in questo lavoro abbiamo almeno tre variabili velocità riducendo i minimi termini sono molte di più velocità in cui gira il motore al di là della coppia velocità in cui gira il motore quantità di sabbia forma del rastrello ora come ora nei vari test che sono stati fatti ho cambiato un po tutte le cose ho cambiato a volte ho cambiato la forma del rastrello poi ho modificato la velocità poi ho cambiato la quantità di sabbia in realtà c'è anche la variabile della grana della sabbia ma quella facciamo che la lascio fissa perché quella secondo me è la grana giusta per come riproduce le onde per la matricità che ha per tutte le cose che ho già detto avere tre variabili in un progetto e continuare a cambiarle tutte crea un meccanismo impazzito e non si capisce più niente per portare a casa questo risultato devo lasciare fissa almeno una possibilmente due variabili se lascio fisse queste e agisco sul resto posso concentrarmi solo su una o due cose al massimo e cercare di portarlo a casa quindi ho deciso di lasciare fisso le due co tentare di lasciare fisso le due cose principali la prima la velocità perché questo affare risulti zen deve girare molto molto piano non ha senso che io continui a modificare la velocità e lo faccia funzionare e ottenga il risultato di rastrellatura e appianamento aumentando la velocità perché poi porto a casa sì il risultato però c'è un tavolino che va a una velocità che non è molto zen il discorso questo non è molto meditativa deve andare molto molto lento quindi deve essere assolutamente lasciata fissa la velocità il più lento possibile e così devo riuscire a farlo funzionare se no vado a barare ottengo il risultato ma poi alla fine se aumento la velocità e lo faccio funzionare non ottengo un tavolino zen ma ottengo un ventilatore con la sabbia altra costante che vorrei tentare di lasciare fissa il più possibile anche se è dura quantità di sabbia ma la quantità di sabbia è direttamente legata alla forma del rastrello e a quanti pettini ha perché più pettini ha più onde fa più più sabbia sposta ai lati più sabbia si dovrà si dovrà appianare e quindi più forza è necessaria e quindi più forma del rastrello cappiana deve essere fatta per spostare quella sabbia quindi la quantità di sabbia è una cosa che posso lasciare fissa sì e no almeno circa quasi l'unica cosa su cui agirei è la forma del rastrello la forma del rastrello in base alla velocità il numero di petti il numero di denti come incontra la sabbia cambia il suo spostamento e quindi cambia poi l'attrito che ne produce ne avevo fatti un pool ieri ho stampato questo e l'ho stampato sulla base di un ragionamento molto semplice inclinando la lama esattamente come una ventola che è fatta per catturare o spingere l'aria avrei ottenuto una superficie in grado di appianare morbidamente quindi non avere un contrasto secco con la sabbia ma andare ad appianarla tranquillamente idem dall'altra parte l'attrito che si creava inclinando qua e poi smussando anche la parte d'incontro mi avrebbe permesso di affrontare la sabbia in maniera meno aggressiva dal punto di vista dell'attrito ora io non posso rimontarlo e non voglio rimontarlo appena fare un bordello però vi garantisco che al di là delle problematiche di stampa al di là vabbè è stampato male perché è una prova al di là del fatto che è più corto della larghezza del tavolino perché non ho voluto farlo in più pezzi perché non era necessario per fare solamente un test questo funziona abbastanza bene il problema di questo cos'è a livello tecnico prima di questo è la flessione perché è in pla ma potremmo tentare di risolverlo con un sottosquadra con una bacchetta con qualcosa l'altro problema è la sua forma cioè è proprio la sua forma il problema è proprio quello che lo fa funzionare questa forma qua francamente per quanto tecnica per quanto magari anche bella in senso assoluto di zen non ha assolutamente un cazzo come non hanno assolutamente un cazzo di zen tutte queste forme qua e anche qui non è che posso fare una roba che funziona e poi l'estetica del tavolino non viene anche guardando cosa c'è un po in giro tutti hanno fatto forme di questo rastrello e questa roba che poi nulla che a vedere quello zen qualcuno mi ha proposto di farlo in yang qualcuno mi ha proposto di farlo in forme assurde ma deve comunque avere un'estetica che è filologica col tavolino che andiamo a fare allora mi sono messo a pensare e poi verso le tre e mezza quattro meno un quarto stanotte ho esclamato tipo assieme ho esclamato grande giove ah ma sei un coglione perché la risposta ce l'abbiamo sempre avuta davanti agli occhi ma non abbiamo mai guardato nessuno perché tra tutti quelli che mi hanno dato consigli sulla forma di rastrello nessuno mi ha dato questo suggerimento perché come me nonostante mi avessi fatto il culo meno di una settimana fa sull'importanza di guardare e osservare nemmeno io mi sono messo a guardare e osservare parentesi ho fatto anche un'altra prova stano questa forma qualcosa che sta sotto la sabbia e che poi la sposta da sotto per evitare di avere queste cose visibili il peso della sabbia è troppo e non ce la fa e soprattutto infilandosi sotto le bacchette poi fa solo casino ma non andava bene comunque la forma giusta del rastrello in cui insistere per farlo venire è esattamente la forma del rastrello cioè è esattamente la forma del rastrello da giardino zen è una bacchetta circolare con dei perni circolari inclinati nulla di più ed è così perché il cerchio col piatto ha il punto di contatto minore è l'unico sono le due forme cerchio più linea che si giuntano in un quando vengono a contatto in un punto minimo tutte le altre forme anche sguinciate che si si voglia hanno un punto di contatto molto ampio questa superficie quali contatto è più ampia di quella di un cerchio è così che va fatto esattamente come un qualsiasi rastrello di un qualsiasi qualsiasi giardino zen a mano allora ho iniziato a fare una prova e ho cercato di capire come portarlo a casa la prova che ho fatto stamattina presto dà già un buon risultato e val la pena lavorare in quella direzione col metodo che ho detto due costanti l'unica cosa che varierò probabilmente è il motore appena arriva e il driver così almeno a quel punto le costanti fisse potenza motore velocità il driver giusto e non ho altre variabili dal punto di vista dell'elettronica e non le cambieremo la prova semplice che ho fatto è questa ho preso una bacchetta di legno che quando sarà finita e sarà fatta come si deve esteticamente si sposerà benissimo perché sabbia e legno esattamente come un giardino zen ho verificato che ruotando appianasse tutto e poi per il momento ho aggiunto solamente un pin così per cercare di capire com'è l'inclinazione e soprattutto qual è il rapporto di inclinazione tra questo e quello e ho capito che il rapporto di inclinazione tra questo e quello va fatto una volta che la sabbia è tutta completamente piatta l'ordine per mettere assieme il tavolino è importante tanto quanto il crearlo quindi prima va messa tutta la sabbia la quantità che è stata stabilita va lisciata il più possibile dopo va inserita la bacchetta e a quel punto la bacchetta dove questi raggiungeranno l'affondamento giusto inizierà a fare il suo lavoro e già questa per quanto sia una prova brutale porta già a casa un po il risultato porta già a casa un po risultato perché vede che un po appiana e invece la scava bene ovviamente non è quello il finale mi sono fermato e non ho aggiunto altri di questi perché come vi dicevo la forma del lastrello e in base a quanti denti ha va a incidere su quanta sabbia è spostata quanta sabbia è spostata va a incidere su quanta sabbia viene mossa qua e quindi serve a coprire il buco e quindi quanta sabbia ci va dentro non so se mi sono spiegato c'è solo un piccolo problema che so già come ovviare ma non so se è necessario ovviarlo fin quando non ho studiato un po di più la paletta la sabbia tende ad ammocchiarsi verso i lati quindi piano piano ne viene rubata dal centro e quindi se io adesso qua per assurdo vi faccio vedere io qua aggiungo un po di sabbia davanti lui toglie perfettamente quella sabbia che si ammucchia lì davanti che dovrebbe essercene sempre un po si è andata a spostare sul lato e quindi adesso lì che è piatto se gli diamo il tempo di girare questa è la rotazione che deve avere cioè lentissimo veramente lentissimo deve compiere un giro veramente ogni tot qui non c'è più sabbia ammucchiata qui era dove aveva lisciato se adesso aspettate e facciamo il giro vedete che lì non la piana più perché la sabbia che era ammucchiata davanti che dovrebbe essere costante vedete che appiana già meno è rimasto un filo di riga perché è stata spostata ai fianchi questo si risolve con la bacchetta mettendo qualcosina di curvo qua che fa tende a far che tende a far stare la sabbia verso l'interno però con lì lo vediamo ora come procedere non ho qual motore non ho qual driver però arrivano in mattinata e quindi non me ne preoccupo io partirei a studiare la bacchetta perché la bacchetta deve essere forata al centro poi deve avere tutti fuori per i pin e adesso ne facciamo una versione abbastanza brutale usando semplicemente le spine del legno quello che in realtà conta molto è l'inclinazione che ha le spine di legno rispetto alla bacchetta e quindi spine di legno e perno la loro inclinazione è quello che comanda tutti per capire che inclinazione deve avere devo prendere posso usare anche questa bacchetta per il momento e non c'è problema poi quando faremo quella definitiva giusta e fatta come dio comanda useremo magari un legno un po più interessante e non una spina al metro che è anche tutta zigrinata quello che devo fare questo adesso togliere il pin far appianare tutta la sabbia una volta appianata tutta la sabbia fare prima i fori per tutte le bacchette decidendo quante e dopo andare a fare il foro centrale permettendo l'inclinazione altra cosa importante che devo ricordarmi l'altezza della bacchetta sulla sabbia deve avere un fermo che permette di metterla sempre alla stessa altezza perché anche quello è importante per l'affondamento e per l'appianamento come avevo anticipato è un bordello non so se hai capito qualcosa di tutti i ragionamenti che ho fatto e se non si è capito spiace dai vediamo di fare una bacchetta simil simil definitiva però la forma deve essere questa perché quando è in legno ed è proprio come un rastrello allora quel punto anche a livello di design questa roba è zen al punto giusto prima cosa da decidere fissa è quanti strisce vogliamo che vengano quindi quante quante sbacchettate vogliamo che vengano tutto allora abbiamo questa misura non c'è un numero che ha a che fare con lo zen il 7 9 il 3 in modo del 3 faccio una ricerca in internet no allora l'unico numero che ha a che fare un po con la filosofia zen è il numero 3 ma se facciamo tre cerchi sono un pochettino poverini quindi possiamo benissimo andare a fare un po quel cazzo che vogliamo ok così sono cinque dispari e sempre meglio che pari vabbè tanto vale la pena provare non è che cinque secondo me sono abbastanza buone anche perché il solco deve venire abbastanza spesso più o meno come il dito che ho fatto io quindi cinque in quella divisione secondo me ci sono allora le campane suonano io ho una sigaretta sull'orecchio e una in mano che non va bene devo risolvere anche questo problema e io ho una sensazione nello stomaco riguardo le intuizioni di stanotte vediamo se si risolve tutto in una colite o in un successo ho fatto la prima bacchetta e l'ho fatta brutale e regolabile per capire e già si intuisce quanto sarà difficile realizzare la definitiva bene perché al di là del materiale usato la forma finale è questa la difficoltà cos'è i fori devono essere tutti perfettamente perfettamente allineati uno all'altro e poi invece il foro di perno non è a avanti gradi con gli altri ha un'inclinazione x ora io ho fatto un'inclinazione a caso e ho fatto questi fori passanti per poter avanti indietro e regolare la distanza di queste ok delle spine questo messo qua adesso andrà cambiata ancora la sensazione la quantità di sabbia non la sensazione questo messo qua e poi bisognerà fare in modo che questo sia piazzato sempre fisso e non possa variare una volta che uno lo mette e toglie dovrebbe fare gli scavi che fa però la quantità di sabbia non è giusta lui non gira sono i cerchi secondo me sono abbastanza alla fine ne ho fatti sei perché per me contano gli spazi e non le creste però prima ancora di mettersi a fare questo adesso c'è da fare un lavoro schifosissimo cioè schifosissimo bisogna ripulire tutto qua perché è arrivato il motore e anche qua costante per costante metto dentro dato che ci sta e anche il pignone più lungo il motore più potente metto dentro il motore più potente almeno non se ne parla più e ragiono al netto di questo è arrivato il motore e sono arrivati i driver più silenziosi che ho già visto che hanno una piedinatura leggermente diversa e un cablaggio leggermente diverso quindi dovrò probabilmente rimettere mano all'elettronica l'altra cosa che avevo ordinato porca miseria sono queste flangettine qua non so perché non so per cosa però magari mi aiutano a tenere fermo qualcosa era meglio averle cambio motore cambio driver così almeno partiamo con qualcosa di netto allora quello che devo essere un cambio di motore è motore un cambio di driver attacca uno metti l'altro si è rivelato una pigna perché questo motore qua non aveva il connettore per attaccarsi alla basetta e la piedinatura del nuovo driver era diversa allora il driver è molto più silenzioso l'unico rumore che si sente è la sabbia e soprattutto rende il motore molto molto più fluido ora a che punto sono a parte non aver più il cervello ho tolto un casino di sabbia perché ho tolto tutta quella ma soprattutto ho tolto tutta questa che non è poca ragazzi secondo me ho tolto quasi mezzo sacchetto e l'ho tolta perché per giudicare le cose a uno stato netto allora l'idea di fare questi qua regolabili è intelligente anche perché la loro lunghezza dipende sia dall'altezza che ha dal piatto ma soprattutto dalla quantità di sabbia ora le incisioni che fa sono abbastanza belle un po bassine ma abbastanza belle la spianatura che fa la fa proprio ma non la fa per una questione che non ci arriva o quella deve essere più bassa o cosa la fa per il motivo che dicevo prima la sabbia tende ad ammucchiarsi sul lato quindi se io qua adesso gliene metto tantissima così vedete che va tutta persa sul fianco probabilmente poi ci vuole anche un po più di sabbia di così però prima di iniziare ad aggiungere sabbia per capire la quantità giusta la velocità di giramento di palle è questa di pale scusate di pale deve essere questa che io lo farei girare a questa velocità né lento 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 né veloce 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 a un certo punto ho fatto impazzire il driver ho alzato a manetta e ha sparato sabbia un po ovunque adesso ciò sembra di camminare sui biscotti per fare una citazione quindi quello che andrei a fare ora alla brutta e tentare di risolvere alla brutta ripeto questo problema qua di accantonamento o meglio più evitare che la sabbia vada ai lati io voglio qualcosa che me la porti all'interno qualcuno mi ha consigliato di fare la vasca leggermente inclinata che è un lavoro assurdo e non ho neanche lo spessore secondo me quello che ci vuole è una letta di qua fermati una letta di qua e una letta di là che vada a raccogliere la sabbia ok che probabilmente questi pezzi qua adesso vedo come farli giusto per fare una prova che vada a raccogliere tutta la sabbia e portarla piano piano qua poi più ne aggiungo più ce ne sarà da portare qua senza troppo perché se no straborda e poi non si muove più è che qua davanti dovrebbe rimanere sempre qualcosa io ho provato ad aggiungere sabbia ma l'aggiungo ma mi si alza la cresta ai lati non mi si non va all'interno perché non c'è niente che la raccolga quindi provo a fare sto smaneggiamento qua l'altezza del tutto è più o meno giusta così perché se io considero che ho anche un vetro da 5-3 mm e questa cosa dovrò capire che vetro è prima di fare la scranatura parallela è parallela però non deve essere troppo contro il vetro quella fare lì un po' di spazio devo averlo quindi provo a fare quelle lette lì non so bene in che modo magari anche solo un pezzo di carta attaccato al fianco perché se questo qua se questo andasse contro andasse a chiudere non sarebbe questo problema perché non la farebbe passare là però non posso perché è difficile farlo esattamente dalla misura giusta che non sforzi che sia tutto centrato quindi provo a fare delle alette per adesso qualcuno non è convinto della mia teoria che tutta la sabbia si accumula ai lati e quindi è per quello che non riesce poi ad appianare ve lo dimostro in maniera barbara allora se io incasino tutto ok e quindi creo delle creste e ora inizio a girare a mano vedete che si ammucchierà lì dietro tutta la sabbia che man mano che giro a mano andrà via via scemando quindi se da prima liscia tutto e qua fa le strisce poi non ci riuscirà più ve lo devo far vedere girando a mano perché quando è così tanta non riesce il motore allora se io giro a mano fatemi fare due giri a vuoto ok vedete che sta appianando più o meno tutto vedete quanta sabbia c'è là e che è sempre meno la vedete che è sempre meno sempre meno sempre meno e vedete che non appiana più praticamente questo perché se io anche gliela aggiungo davanti guardate quant'è vedete che va via e la cresta laterale continua ad alzarsi di più questo è la motivo e qua la sabbia è di nuovo quasi finita poi ce n'è tanta di qua ma quello non conta questo è dovuto anche alla lunghezza perché se io questo l'avessi fatto più corto se tutto fosse un po' più corto ci sarebbe meno il problema perché l'onda che si crea qua va a corpirire ecco perché li fanno grandi così cazzo questa cosa qua dipende anche dal tipo di sabbia perché con una sabbia più fine come questa fatemi dare una rimestata qua così asciuga ancora anche l'altra soproficie con una sabbia più fine come questa che quindi rotola meno perché scivola meno sull'altra quando fa il solco poi tenderà a pianare non ho detto che non lo farà perché l'effetto centrifuga lo fa lo stesso però lo farebbe meno però questa sabbia è molto molto bella fa anche un bel rumore secondo me vorrei evitare di cambiarla sembra quasi che io non l'abbia scelta Marco dice una cosa intelligente ma non vuoi farla una prova con l'altra sabbia giusto per capire se la teoria è giusta in realtà no non volevo perché è uno sbattone incredibile però facciamo una prova con l'altra sabbia tolgo tutta questa e metto dentro quella proviamo vedete perché ho collegato la stampante a Home Assistant perché è finito il maledetto filamento e lui mi ha avvisato ultimo chilo di PLA grigio della Sunlu ultimo fin quando non arriva quello coordinato stamattina perché l'ho ordinato ancora ok fatto è così complesso questo file che il Sonic Pad non riesce a fare il preview comunque mi state dicendo tutti per ovviare il problema della sabbia elata e riportarla al centro fare la paletta a due semicerchi contrapposti quello che ho detto prima lo yi yang il tau chiamatelo come volete ragazzi non mi piace l'idea perché mi fa schifo l'idea di quella forma della paletta cioè non ho mai visto una paletta nel giardino zenfatta in quel modo certo risolverebbe sicuramente il problema perché rastrella e tiene tutto al centro ci vorrebbe anche molto meno sabbia perché ne accumula molto di più nella zona centrale però farebbe veramente veramente schifo cioè un semicerchio così e un semicerchio così e poi come lo realizzo in MDF cioè lo faccio tagliare al laser da un MDF spesso e poi lo stondo non lo so non mi piace cioè mi sembra sembra non trovo l'aggettivo un giochetto avere una roba del genere cioè non un giochetto mi sembra un kitsch una roba del genere mi fa cagare punto vorrei non farlo così bah tutto pulito provo a procedere al contrario aggiungo un po' di sabbia man mano non lo so ragazzi non ci sto a capire più un cazzo gli unici cadere di sicurezza sembrate voi quando mi scrivete le cose io sicurezza non ne ho grazie a tutti allora sabbia ovunque sto perdendo la pazienza però però allora discorso sabbia questa sabbia oltre che far cagare non è neanche tanto più a grana fine dell'alta perché contiene pezzi grossi per cui lasciamo stare questa e l'altra è uguale ho notato una cosa prima e non ho una storia per farvelo vedere c'è qualche storia passata però ho notato adesso qua non si vede perché ho già stemato il problema più o meno che nella parte frontale del rastrello si ammucchiava tantissima sabbia e quindi poi mancava di là perché era lui a portarsela avanti allora cosa ho fatto ho cambiato rastrello e com'è l'ho cambiato l'ho cambiato con l'inclinazione ce l'ho fatto un po' più stoppati ok l'ho fatto un po' più in piedi in modo tale che ci sia un po' più di spazio in altezza tra un dente e l'altro in modo tale che la sabbia adesso possa passare sotto tutta la sabbia spostata possa passare sotto il rastrello e difatti funziona molto meglio non è preciso non è perfetto perché ovviamente funziona vedete questa parte qua questa parte qua qua non c'è praticamente accumulo di sabbia non importa quella che c'è ai lati non non frega niente non so perché quella lì era un'intenzione sbagliata perché non viene a mancare la sabbia vedete che qua piana sempre e di là invece scava qua centralmente no perché c'è una questione di distanza quindi ho alzato un po' il rastrello ho portato un po' più in piedi queste e queste qua sono adesso un po' più lunghe poi la sabbia questa qua è peggio dell'altra perché in realtà fa ancora più attrito vedete che qua è completamente appianato quindi adesso mi mangio un tramezzino e poi rimetto l'altra sabbia perché voglio rimettere l'altra sabbia e lavoro solo sul rastrello come ho detto stamattina allora ho ritolto tutta l'altra sabbia io sto meditando di andare a vedere se trovo altra sabbia ma la madonna allora mi è stato consigliato di provare o la sabbia da filtri da piscine che è molto più fine non è bella come questa o la sabbia quella per per le sabbiatrici che anche quella è molto fine sono meno belle esteticamente non brutte come la sabbia dell'idroscalo qua però non belle quanto l'altro ma è l'unica variabile che vorrei proprio eliminare le vendono entrambi al bricoman ora qualcuno invece continuano ad aver capito il gioco perché in 5 o 6 e 5 o 6 è drammatica come statistica mi avete consigliato di mettere dall'altra parte della del rastrello delle setole cioè delle setole cristo madonna delle setole qua che bella roba di design ma che raffinatezza delle belle setole un bel baffo lungo tutto il coso che bellissimo perché non una scopa pippo prendo la scopa pippo e l'attacco direttamente abbiamo capito cosa si sta cercando di fare qua questa volta come tutte le volte le setole va bene adesso un medito se andare a prendere tanto dovrei andare a prendere altre bacchette di queste ha fatto un'altra modifica a questo che non vi ho detto prima e che ho fatto che è questa oltre al cambio di inclinazione e non tenterei di portare i dritti quanto prima perché la dritta è maggiore ho fatto no non è così il senso è questo il senso ho fatto no questo mi sono già perso ok ho fatto questi sguinci che aiutano di molto a non incastrare i granelli non so se riprovare così e rimetterla dentro andare a cercare l'altra sabbia basta mi rassegno vado a comprare l'altra sabbia e invece no è mezz'ora tre quarti d'ora che funziona ininterrottamente cancellando e lasciando i solchi ok c'è margine di manovra tutto quello che volete però sta funzionando egregiamente cancella scrive ora la profondità dei solchi e come li vedete in realtà che lì sembra meno che qua è perché tutta una questione di illuminazione qui ho luci sparati con una luce radente questi verrebbero ancora più ma ci pensiamo però come vedete funziona ininterrottamente e la cosa bella è ho regolato bene tutto il driver il motore la vetina i cazzi e i mazzi sentite il rumore mare fa il rumore del mare non sgrana più non è il tutto è merito della paletta come ho detto stamattina andavo ottimizzata la paletta non la quantità di sabbia e non la velocità adesso la paletta l'ho fatta veramente alla brutta brutta male l'ho fatta veramente male però la sua forma c'è ve la faccio vi spiego la forma della paletta aspetto che si giri ok allora la paletta ha una formula precisa per cui fare la definitiva sarà dura ho dovuto aggiungere quello per distanziare come si deve la paletta dalla distanza che volevo e adesso qua bisogna fare poi un ragionamento sulle altezze se no se volessi abbassarla più dovrei mettere meno sabbia ma poi quelli sarebbero più corti toccherebbero il fondo o non lo toccherebbero ma in ogni caso sposterebbero poca sabbia dopo l'onda e quindi quando riuscirebbe a coprire c'è tutta una formula che io non ho identificato ma funziona in pochissime casistiche poi per appianare di lì invece cosa ho fatto ho tirato ho di fatto tirato dritto il cerchio e messo sotto un triangolo qui sotto c'è un triangolo ok c'è proprio una roba così e l'ho preso dagli scarti non è che l'ho costruito apposta al momento una roba così c'è questo proprio questo pezzettino qua di legno attaccato sotto ora se io lo faccio ripartire quello che si vede benissimo è che davanti nella parte del rastrello la sabbia non si ammucchia più ma anzi i pistam brilli fanno spostare la sabbia ai lati poi di là va a richiudere la miglioria che si può fare che ho tralasciato dove il mio cucchiaio ok la miglioria che si può fare è aggiungere qualcosa che quel poco di sabbia che viene portata ai bordi vada a finire di nuovo dentro così quindi qualcosa che mi crei un ordine di anello al contrario c'è anziché un anello scavato un anello col bordo ma possiamo farlo benissimo con la forma della paletta quando faccio la definitiva di fatto però funziona copre spariscono e li va magari si può aggiungere ancora un po più di sabbia eh non lo so io adesso mi sono fermato al risultato ottenuto magari si può aggiungere ancora un po più di sabbia e vedere cosa di fatto succede nella parte centrale tanto 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 per tanto siamo ancora in fase di prove il movimento è veramente veramente fluido l'importante che non si ammucchi la sabbia davanti al rastrello ma si ammucchi dietro e ce ne sia sempre ok quindi che a un certo punto diminuisca come ora ma poi si vada a ricaricare quando è su è la giusta quantità di sabbia con la giusta velocità e la giusta inclinazione penso di aver capito e sapete cos'è la cosa strana che è rilassante davvero nel silenzio il rumore che fa è veramente rilassante ora bisogna fare la paletta definitiva e bisogna fare la paletta definitiva prima mettendo a posto tutto sto bordello che non serve più senza sganciare questa quindi guardando bene le misure e la paletta definitiva va fatta non solo che funziona a livello tecnico ma che sia anche bella perché come al solito è l'aggiunzione delle forme che fa la differenza nel design quindi sotto vabbè un cerchio che per tre quarti circolare per un quarto è a punta è già una bella forma questi se la sopra non sporgono o comunque sono a pari e sporgono solo da sotto è già più bella qua invece c'è un po da lavorarci perché qua c'è un po da lavorare sulla forma l'altra cosa che mi chiedevo è se non vale la pena usare qualcosa di più spesso qualcosa tipo tipo di questo genere che come proporzioni mi sembra un filino meglio mi sembra un filino più giusto come proporzioni però allora io questo qua non lo non lo stoppo cioè lo lascio andare avanti a oltranza fra l'altro il consumo per chi se lo stesse chiedendo con il nuovo motore è questo quindi data una batteria da 6.000 mAh 6.800 mAh 3.800 mAh bisogna vedere perché non ho più controllato quanto spazio effettivamente sotto non è che ne abbia tantissimo data un consumo così poi vedremo e probabilmente l'altra cosa è che bisogna aggiungere uno spessore qua da 5 mm ma bisogna aggiungerlo perché la formula vuole che no beh magari dicevo magari no me la cavo con un vetro da 3 mm che tanto non è che debba tenere anche e si può fare prima di mettermi a fare la paletta definitiva che è un bel lavoro di fare gnameria eh perché è veramente un bel lavoro tosto di fare gnameria devo mettere a posto tutto sto bordello farmi un caffè e andare a coppare le sigarette perché ne ho una quindi vado direttamente fuori a bere il caffè e questo lo lascio acceso torno ha preso fuoco tutto il laboratorio a me piace tantissimo ragazzi sta sta venendo dai dai sta venendo poi verrà ancora meglio quando avrò fatto il pezzo che si occupa di fare non questo lavoro di lisciatura ma questo lavoro tipo aratro che crea un cerchio esterno un ordine esterno che serve a riportare dentro le cose una pinna qualcosa adesso lo studio una cosa sicura si può usare questa sabbia non fa più neanche quel rumore terribile che faceva prima che era non era rilassante era fastidioso perché era troppo bassa la bacchetta c'era troppa differenza c'era troppa poca differenza tra la parte di rastrello e la parte di spianatura e quindi sgranava sembrava proprio il rumore della sabbia sotto i denti che è quasi peggio delle unghie sotto la lavagna adesso fa questo rumore morbido e ci sta tutto allora vado a bere un caffè a coprire le sigarette e poi vediamo come lo rovino adesso che sono sulla strada giusta allora uscito è rientrato e lui continua a funzionare a fare il suo dovere perfetto ok c'è ora siete già partiti con i complimenti grande grandissimo bellissimo ci sei riuscito fighissimo ficcante bla 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 ragazzi come dico sempre calma potrei rovinare tutto da un momento all'altro e inoltre mancano tantissime cose la finitura il vetro la forma finale della paletta è il metodo di attivazione l'elettronica della batteria quindi non siamo ancora in safe o in zona cesarini per qualsiasi cosa voglia dire dato che io non lo so ho deciso come complicare la questione la prossima parte da affrontare è come ho detto la paletta bisogna rendere la paletta fermiamolo perché dopo un po' ha rotto le balle allora bisogna rendere la paletta esteticamente ficcante ma tanto ficcante cioè qui ci deve essere qualcosa che unisce le due forme quelli devono essere fatti a zero questo deve essere un tutt'uno la forma finale va decisa anche il diametro della bacchetta può variare forse questo è un po' tanto forse quello è un po' poco a stampare in 3D la paletta a sezioni potrei fare un po' tutte le forme che voglio perché Fujio mi aiuta a fondere questi due pezzi qua però per complicare le cose io la farei in legno se questo è nero e questo è bianco sotto abbiamo il mogano io porca bignotta non ho un pezzo di mogano così lungo o forse sì o forse sì potrei avere qualche scarto di mogano lungo se non mi va tutto sulle corna se non mi cade tutto in testa potrei avere qualche scarto di mogano anche da accoppiare fammi vedere un attimo sì perché se la paletta la facciamo in mogano abbiamo un rimando alle gambe e soprattutto abbiamo l'elegance ok allora facciamo che vogliamo farlo tutto in legno facciamo che vogliamo scolpirlo partendo da a questo punto un profilato quadrato quindi che cerchio fare ce lo comanda l'infili bit questo è un 20 e quello è un 12 vogliamo un po' più di quello e un po' meno di questo però per fare questo lavoro mi comandano le frese che ho a disposizione allora quelle con raggio curvo per raccordare sono queste allora 31 siamo già oltre 9,35 9,53 9,35 9,18 35 fa 70 18,70 18,70 oppure 6,4 12,12 12,8 12,8 cambia un po' poco dall'altra questa è un po' tanto però io farei questa proverei a ragionare su un raggio 9,35 tanto se al massimo ci risulta un po' alta aggiungiamo un alto gradinetto per mettere il il vetro però sto già cambiando idea è meglio sottile o è meglio spessa questa? no, secondo me è meglio sottile così quindi l'altra fresa quell'altra quella con raggio 6,4 così almeno otteniamo un 12,8 ci sarà da pelarsi le mani a usare questa però ho anche quella con scalatura 90 gradi per fare scusate questa con scalatura 90 gradi per fare un bel jig allora abbiamo detto fresa 6,4 34 12,01 2 P è anche un bel codolo 12 importante ora prendo la larghezza chiudo l'infinibit prendo la larghezza e vado in fusion perché anche se non devo stamparla 3D la voglio comunque disegnare in 3D perché è bene che io si è bene che identifichi bene la forma soprattutto l'innesto del pignone per così che dovrà probabilmente avere lo stesso vabbè ci rivediamo davanti a fusion certo che se riuscisse a farla in mogano questa tutta in una forma molto organica che viene fuori da lì e si innesta sarebbe il non plus ultra vediamo dai vediamo che al massimo la stampiamo in 3D ciao allora la situa è questa non riuscendo a fare una bella forma della bacchetta in modo tale che raccolga la sabbia ai lati perché l'ho schizzato alla brucia io dovrei fare una cosa così c'è una bacchetta dritta che poi ha due alette in qualche modo che vanno a spingere la sabbia al centro è un po tanto lama cioè non so perché ma mi fa un po troppo resident evil cioè non è non è molto molto relax come forma allora mi sto dirigendo verso quello che dicevate voi cioè una forma un po più a tau non è proprio tau non è proprio yin yang perché lo yin yang sono due semicerchi completi che si intersegano è un pelo pelo accennato è più pepsi se dobbiamo essere sincero però adesso valuto come viene la forma di questo affare in in 3d perché ho dovuto passare per forza dello stesso perché io questo in sketch non lo so disegnare però questa potrebbe essere al giusto compromesso per non avere troppa resistenza di qua troppa resistenza di là e riuscire a raccogliere la sabbia al centro che cade da qua e cade da là però questo richiederebbe un'ulteriore prova però l'unico modo che vuoi farlo il difficile di fare questo è riuscire a farlo in tridimensionale dove la sua sezione per il suo sviluppo per così cioè per la sua curva è triangolare sotto circolare sopra perché fosse quadrato mi stampo questa di mitaggia questa di ball laser metto sopra taglio e questo viene quadrato però anche partendo da un quadrato dovrei riuscire a ricavare questa di sicuro sarà però un assemblage di legni a proposito di assemblage di legni io ho detto facciamone in però io le spinette di mogano come le faccio quello è il problema cioè avessi un tornio farei tornirei delle una stecca di mogano della dimensione giusta però ma ci pensiamo poi una cosa alla volta sto indagando questa forma vi dico vi do un suggerimento sapete non faccio tutorial ma vi do un suggerimento per trovare forme di questo genere dove avete una curva morbida e volete che sia morbida che non abbia botte cioè che non si interrompa ti faccio l'esempio questa curva è pressoché lo stesso di questa ed è quella che ho disegnato io a mano o meglio in questo programma vettoriale dove ci sono le le stack poi qualsiasi programma è uguale anche a mano il discorso al medesimo se guardate adesso non riesco perché non ho una mano comunque se la guardate bene questa curva qua non è sinuosa vedete che ha una botta qua qui finisce un po troppo dritta perché ha tre punti un punto qua uno al centro qua si dirama la curva e non viene bella sinuosa è meno sinuosa rispetto a quello che è questa questo perché io di solito per fare questi lavori faccio così parto sempre da una curva fatta a mano in questo caso simmetrica simmetrica per così e poi simmetrica sull'asse per così parto sempre da una curva a mano esattamente come questa poi vedo che ha le botte poi riduco tutto a geometria elementare vuol dire questo è un cerchio ho una spina per così una spina per così vuol dire che mi disegno altri due cerchi grande ok lasciate stare questa guida qua disegno altri due cerchi grandi grandi tenendomi sotto la mia la mia curva che è quella lì e mi avvicino il più possibile fin tanto che ho sia l'interseco che una curva morbida poi tolgo tutto ciò che non serve unisco i due cerchi e ottengo guarda adesso lo espanso ottengo la curva morbida così la curva è sinuosa perché ci pensa la geometria a farla e arriverete a delle misure incredibili per intenderci questa curva sono due corde di cerchio ma sono due cerchi su per stare all'interno di un cerchio di 67 centimetri sono due cerchi da un metro e dieci di diametro quindi quasi il doppio di quello ora io potrei ragionare ancora di più facendo anziché 60 anziché un metà e dieci 67 5 per due e otterrei una regolarità avrei una curva diversa però l'avrei armonica tanto quanto è armonica questo questo è il mio consiglio se dovete fare delle cose così perché farle a mano sia a mano libra che al computer comunque farle senza geometria viene sempre un merdaio e vengono sempre con delle botte o delle cose vedete com'è poco poco sinuosa tac si inchioda qua poi qui spancia qui invece è d'accordo anche il cane ora io devo insistere devo mettermi lì concentrarmi e fare la forma così se per domani ottengo la forma poi mettiamo a posto sto bordello e vediamo cosa fare con il legno che ho a disposizione perché ho anche altri tipi di legni però vorrei aggiungere un altro legno intanto qui va beh lui va se lo accendi va dove cazzo è lui va e continua a fare il suo lavoro e viene bellissimo però nel momento in cui io questa qua la faccio curva potrebbe cambiarmi un po tutte le carte in tavola per la quadra che ho trovato però secondo me per evitare appunto questo ammucchiamento di sabbia lì che piano piano fa finire questa sabbia anche se alla lunga perché per la quadra che ho trovato adesso secondo me ci vuole in due ore per finire la sabbia lì se non di più però quando c'è davanti il vetro vorrebbe dire togliere il vetro ammucchiare la sabbia al centro cioè fare fare sto lavoro fare sto lavoro qua e secondo me non è il massimo sarebbe bello se fosse auto auto si distribuisse da solo allora one maker senior ha chiamato e ha detto vi cito le parole esatte quello che stai facendo va tutto bene io però farei più cerchi primo papà grazie della recensione cioè sono tutti recensori anche in casa le abbiamo recensori va tutto bene va bene perfetto lui farebbe più cerchi fare più cerchi io non sono proprio d'accordo perché è vero che di solito lui dice addirittura di raddoppiarli cioè mettere un'ulteriore spina ora è un po un problemino farlo e potrebbe cambiarmi di nuovo tutte le carte in tavola però non so se effettivamente fare più cerchi ci penso fino a domani intanto io adesso risolvo la forma e faccio un piano d'azione per sagomarla domani con legno con le frese le dime vediamo di farmi tutto o intanto ditemi cosa ne pensate di fare il doppio dei cerchi più cerchi e quindi di fatto andare a creare un pieno un vuoto un pieno un vuoto e mi sa che sarebbe meglio un pieno un vuoto andare a fare un pieno un vuoto un pieno un vuoto un pieno un vuoto molto più molto più più serrato ci vorrebbe meno sabbia perché ne sposta di più e la muove di più però non lo so ditemi cosa ne pensate tanto vado avanti di là e poi niente ci vediamo domani però dai quasi ci siamo